Oggi, martedì 21 luglio, al Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra, a Roma, Enrico Iole e Cisnetto hanno presentato il programma di Cortina Incontra per l'estate 2009. Sul palco con loro, anche Irene Pivetti. L'appuntamento con l'attualità in vacanza è arrivato all'ottava edizione. In otto anni, oltre 3.000 ospiti hanno partecipato a più di 920, seguiti da 600.000 spettatori per 1.200 ore di diretta televisiva. Quest'anno, sul palco di Cortina Incontra, si alterneranno più di 400 ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura e dell'economia, confermati riconoscimenti guadagnati negli anni passati. Quindi l'altro patronato del Presidente della Repubblica, il patrocino del Consiglio dei Ministri, quello del Ministero per i beni e attività culturali e il patrocino della Regione Veneto e del Comune di Cortina di Ampezzo. L'economia sarà il tema centrale di questa edizione. In questo momento la crisi ha creato grande attenzione sui grandi problemi economici, parleremo moltissimo delle questioni dell'energia, come uscire dalla crisi, come agganciare la ripresa, l'internazionalizzazione del Paese. Ci sono moltissimi appuntamenti che riguardano l'economia. Quali saranno le novità di Cortina Incontra 2009? Come tutti gli anni la novità le porta all'attualità, nel senso che essendo Cortina Incontra la grande kermesse dell'attualità in vacanza, non siamo noi a destabilire le novità, ma è appunto l'attualità, la cronaca, i grandi temi che sono alla ribalta. Grazie a tutti.